benvenuti a questo nuovo episodio di photoshop compito a casa ricordo per chi non sa di che cosa si tratta in descrizione trovate un link a un mio tutorial esistente da eseguire e inviarmi alla mail che trovate qua sullo schermo poi sarà commentato nella puntata successiva riprenderò con questa rubrica dopo le festività natalizie quindi potete inviare con calma e andiamo subito a vedere che cosa mi avete inviato questa volta teresa ho mandato un out of bound quindi è possibile fare anche un tema libero non è obbligatorio eseguire il tutorial che indico qui la composizione l'insieme è tutto quanto gradevole non so se ha trovato un'immagine già preparata con questa cornice e questa ambientazione comunque l'unione delle varie componenti è gradevole è simpatica oltretutto c'è questo elefantino che va ad attingere in quest'altro secchio l'unica nota stonata è questo stiramento nell'immagine che probabilmente è stato fatto per adattarla alla cornice una cornice wide invece l'immagine probabilmente non era in formato wide vittorio ci manda questo suo vetro rotto ed è una composizione simpatica e anche particolare questo dito che sembra rompere il vetro quindi ha azzeccato la combinazione tra vetro rotto e l'immagine sottostante una cosa che non riesco a capire invece sono queste macchie qua non so se vuol sembrare sangue ma è un pochino troppo spiaccicato forse se non ci fosse stato sarebbe stato più gradevole bravo vittorio andiamo avanti con claudio che ha eseguito questo sorta di lenzuolo staccato è fatto abbastanza bene abbastanza gradevole la composizione anche il fatto di avere decentrato l'immagine e non averla fatta esattamente in mezzo rende gradevole la composizione l'ombreggiatura qui sotto è gradevole abbastanza alta abbastanza profonda per far sì che si abbia una maggiore sensazione di distacco quindi globalmente direi che con questa immagine ci siamo patrizia invece ha eseguito il il compito assegnato globalmente direi che ci siamo solo un appunto su quello che è il contorno dell'acqua qui lo scontorno oppure la apertura è stata fatta forse un pochino troppo rigida sarebbe stata più gradevole un po più morbida ma è una sottilezza quindi direi che con questo suo lavoro ci siamo passiamo ad alessandro che ha ricomposto utilizzando un altro tipo di di ciotoli e qua invece se nella parte sinistra ancora andiamo abbastanza bene va un po meno bene qua nella parte destra dove il l'acqua sarebbe stato più gradevole e più credibile se avesse seguito i bordi dei dei pietrini per il resto direi che ci siamo la visione prospettica qui ci sta quindi l'insieme è gradevole se non altro se non per questa cosa qua che si può recuperare abbastanza bene pari dei mandala sua che ha di poco gradevole il fatto che manca prospettiva nei ciotoli quindi è un po' come se fosse una visione dall'alto e realisticamente se effettuassimo uno scatto del genere non si vedrebbe la torre di Pisa come abbiamo qua ma si vedrebbe il fotografo quindi l'effetto di prospettiva che ho suggerito nel tutorial serve anche a quello a dare maggiore credibilità c'è anche un problema qui nel scontorno dell'acqua quella che è la simulazione dell'acqua forse un pochino troppo sfumata e quindi non tanto credibile qua intorno ai sassi lavorandoci un altro pochettino si può probabilmente migliorare passiamo a Rosario che ha ricomposto facendo abbastanza bene quello che è lo scontorno qua intorno ai sassi mentre forse è un pochino troppo confusionata l'immagine riflessa cioè ci sono un pochino troppe onde diventa poco comprensibile la riflessione probabilmente basterebbe ridurre l'effetto delle onde e l'aspetto globale sarebbe più gradevole Laura manda la sua interpretazione della cosa qui anche qua un pochettino fatto meglio lo scontorno sull'acqua perché sia un po' più credibile Giovanni manda il suo lavoro direi fatto abbastanza bene lo scontorno sull'acqua è quasi azzeccato in tutte le posizioni se non qui dove si accavalla forse un pochettino troppo poi la sfumatura lascia vedere i sassi sotto l'immagine è d'effetto l'immagine rovesciata è d'effetto quindi combinata bene nella visione globale Catello ha la sua visione anche lui anche qua lo scontorno sull'acqua è un pochettino troppo grossolano e manca anche qui la prospettiva sui ciotoli per rendere più credibile la composizione Maria ha effettuato quest'altro suo lavoro anche qua il lavoro sul scontorno dell'acqua è un pochino troppo grossolano ci vuole un po' più di calma per renderlo più adeguato a quelli che sono i ciotoli per il resto ci siamo la prospettiva sui ciotoli c'è quindi l'effetto di visione prospettica e riflessione va bene Carmine ha inviato ancora il primo dei tutorial che avevo assegnato dei compiti a casa che avevo assegnato con il vetro rotto accoppiato a un'immagine sottostante globalmente ci sta la visione del soggetto c'è inserito in questa apertura oppure in questa spaccatura dove riusciamo a vedere gli occhi che sono la parte più importante di un ritratto quindi direi che più o meno globalmente ci siamo Renata ha il suo effetto con bianco e nero sui ciotoli e questo aiuta a staccare da quello che invece è il contenuto sta bene il contenuto sta un po' meno bene lo scontorno sempre qua vedo che è un problema che hanno un po' tutti un pochino troppo rigido troppo grossolano Lizzi ha interpretato con un altro tipo di pavimentazione che è molto gradevole si accosta parecchio con l'immagine sottostante quindi globalmente è una buona esecuzione anche lo scontorno dell'acqua è fatto abbastanza bene quindi potrebbe quasi quasi sembrare una vera foto realizzata con una riflessione sulla pozzanghera Francesca invece si è dedicata a un tutorial da me proposto tanto tempo fa oppure diverso tempo fa globalmente gradevole direi che più o meno ci siamo con tutto quanto erano i suggerimenti che ho dato forse la cosa che non è tanto gradevole è questa immagine o perlomeno la tonalità di questa immagine che si stacca troppo dalle altre quindi questa tonalità così fredda mentre le altre sono abbastanza calde è un po' in contrasto con le altre basta una modifica su questa leggera modifica sulla tonalità e tutto dovrebbe essere più equilibrato Serena manda il suo lavoro molto in primo piano quindi c'è poco contorno quello che si chiamerebbe ambientazione però non è obbligatorio che se ne veda un mare vedo invece lo scontorno sull'acqua che è un pochino troppo approssimativo quindi dovrebbe seguire di più quelli che sono i ciotoli magari in certe posizioni va meglio in altre un po' meno anche qui la sfumatura tende ad andare un pochettino troppo sopra i ciotoli Marisa ha quest'altra sua visione che potrebbe essere gradevole anche per il fatto di avere utilizzato una pavimentazione particolare e la riflessione che è non solo in una barra di una pozzanghere ma in più i pozzanghere quello che stona è che sotto oppure sopra quella che è la pavimentazione è sfocata sfocata sia nel primo piano che in profondità e potrebbe anche succedere in fotografia mentre non c'è sfocatura nella riflessione cosa che va a cozzare con le regole della fotografia quindi o su entrambe le situazioni che sono proposte oppure su nessuna delle due così è veramente improbabile che possa succedere Roberto ha quest'altra sua visione che globalmente va bene come scontorno sull'acqua anche la riflessione è gradevole con questo movimento leggero aggiunto manca la prospettiva oppure se c'è è troppo poca sui ciotoli e questo per rendere più veritiera la cosa Luciano ha quest'altra sua visione forse un pochino troppo ciotoli troppi pochi ciotoli per riuscire a capire che è una simulazione di una pozzanghera avessimo avuto un pochettino di più intorno sarebbe stata più efficace è un po' anche questa immagine che ho voluto utilizzare che serve un po' di tempo per riuscire a capire che cosa è perché molto simile ai ciotoli sembra quasi che queste parti qui facciano parte dei ciotoli e non di ciò che ci si riflette sopra Filippo ha mandato una ricomposizione di immagini fatte in questo modo anche questa proposta tempo fa va più o meno globalmente ci siamo l'accostamento ci sta anche con lo sfondo utilizzato forse un'imbreggiatura un po' più accentuata intorno ai bordi dei tasselli avrebbe staccato maggiormente dato una sensazione di profondità maggiore Alessandro ci manda questa bellissima riflessione su un bellissimo scatto notturno è una stupenda Firenze che non richiede interventi di modifica direi che ci siamo è molto gradevole tutto quanto quindi già lo scatto in partenza è una bella fotografia che poi riflessa in questo modo da la sua efficacia ancora di più Eleonora ha scelto di trasformare in bianco e nero quelli che sono i ciotoli e ci sta direi che la visione notturna che abbiamo all'interno della riflessione è accoppiata bene a quello che può sembrare un notturno una visione dei ciotoli non in pieno sole quindi che sarebbe andata in contrasto con il contenuto anche qua un pochettino più di impegno sui contorni dei ciotoli e per il resto è un'immagine gradevole e piacevole Francesca ha la sua molto in primo piano però ci sta anche se decentrata forse meglio proprio perché nella composizione fotografica avere elementi di interesse decentrati spesso contribuisce ad attirare maggiormente l'attenzione ho un pochettino più di attenzione anche qui nell'esecuzione dello scontorno dell'acqua specialmente in questa posizione dove non si capisce perché qua non è entrata non è entrata in questo bordo però sono sottigliezze non ci si deve arrabbiare sono solo suggerimenti per migliorare le cose Carmine ha inviato la ricomposizione triangoli il mio tutorial recente fatto direi abbastanza bene è forse un pochettino troppo pesante quella che è la macchia scura sotto ma probabilmente è perché tende a fondersi con le parti scure dell'immagine basterebbe provare a farla appena un po' più leggera un po' più grigia e probabilmente sarebbe più efficace quindi grazie a tutti per i vostri invii il vostro contributo che serve a far funzionare questa rubrica non funzionerebbe se voi non inviaste i vostri lavori vi invito sempre a vedere i miei contenuti che sono tutti linkati in descrizione tutte le mie novità sono linkate nella descrizione sotto al video e naturalmente il vostro mi piace se vi è piaciuto il tutorial ci vediamo dopo le festività natalizie grazie a tutti